Ma no, ma si è che c'è anche Francesca stasera. Esatto, quella che ti piace tanto. Bravo, la fanatica. Scusa, scusa l'altra chiamata. Pronto? Ciao Marco. Sì, mia sorella. Adesso te la passo. Barbara? Dai, però fai presto un altro amico in linea. Pronto? Ciao Marco. Mi ami? Ma quanto mi ami? Ma io invece ti odio. Ti odio, ti odio. Erma 2, avviso di chiamata. Anche occupato, il tuo telefono è sempre libero. Mi odi? Tanto? Ma tanto quanto? Grazie.